Siamo di nuovo insieme con Orobie Extra, è arrivato anche il mese di giugno e sulla nostra rivista su Orobie c'è una nuova montagna da scoprire, il Monte Frerone in Valcamonica, una montagna del gruppo dell'Adamello. Qui dicono i nostri autori, la montagna è ancora rifugio, il rifugio è il Titasecchi e lo gestisce Gino Baccanelli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, com'è questa montagna e soprattutto che cosa rappresenta il rifugio su questa montagna? Diciamo che il Frerone è un punto panoramico perché è la prima montagna insieme col Blumone che si trova sulla pianura padana, di fatto da lì si può ammirare tutta la pianura Veneta fino quasi alla laguna di Venezia perché non abbiamo montagna di fronte ed è una bellissima zona poco frequentata però che dà ricche soddisfazioni per l'escursionista normale. Ecco, montagna segreta perché? Perché è ancora poco frequentata? Perché fino a qualche anno fa, anche d'inverno, era abbastanza inaccessibile perché la strada era chiusa in basso e non tutti affrontavano poi le tre ore o quattro di salita. Invece adesso che la provincia tiene aperto fino al rifugio Tassara e poi da lì in due ore si è in vetta e si fa un'ottima sciata senza grandi pericoli. Come sono gli itinerari su questa montagna? Invernali è una bellissima discesa, come ho detto prima, accessibile a tutti. D'estate ha una fioritura tutta particolare perché è una montagna con il suo attorno che comprende un po' tutte le ere geologiche, perciò abbiamo sia la flora del territorio acido e sia anche di quella calcarea basica. Perciò abbiamo una flora stupenda dove gli appassionati sono sempre alla ricerca di cose rarissime. E gestire un rifugio che cosa significa? Ma gestire un rifugio significa un'impresa per dare un reddito alla propria vita e rimanere in montagna, dare la possibilità a chi viene di poterla vivere senza dover fare grandi camminate. Il rifugio, secondo il mio punto di vista, è la casa di tutti quelli che vogliono frequentare la montagna. Sei anche presidente di Assua Rifugio, cioè rappresenti un po' tutti i rifugisti. Diciamo che da molti anni ho questo incarico di portare la voce dei rifugisti alle varie istituzioni. Su questo stiamo lavorando per far comprendere meglio tutto il lavoro e gli sforzi che stiamo facendo per queste attività paragonate al Fondo Valle, ma che purtroppo sono in posti inaccessibili. Noi notiamo anche attraverso il nostro sito e anche attraverso Facebook che quando c'è un rifugio che aspetta un nuovo gestore, c'è un bando, in tantissimi si entusiasmano. Ma forse perché magari pensano che il lato economico prevalga poi sul grande lavoro che c'è dietro. Gestire un rifugio oggi con le esigenze anche dell'escursionista di questi tempi non è facile e necessita di una grande volontà, cioè è un grosso sforzo di dire sì rimango perché se noi andiamo a vedere ci sono molti rifugi che cambiano gestione nel giro di pochi anni e questo vuol dire che la reddittività del rifugio non è così, non ricompensa tutti gli sforzi che si fanno. Però c'è una suggestione forse anche del vivere in mezzo alla natura, in montagne e luoghi che sono oggettivamente meravigliosi. Sì, cioè il gestore rimanendo su ha questa possibilità di godersi, però di godersela all'interno del rifugio perché quando le giornate sono belle arriva gente e bisogna servirla e poi quando invece sono brutte bisogna pensare a rimettere nella dispensa quello che si è consumato durante le belle giornate. Tra l'altro però nuovi rifugi stanno aprendo, noi parliamo del balico nel numero di Orobie, anche strutture molto belle. Sì, è il recupero di molte baite dei magenghi che altrimenti andrebbero disperse perché con la diminuzione delle bestie in montagna, cioè dell'agricoltura di montagna, queste strutture, le stiamo vedendo qui col balico, che era un ex malga, poi vedremo più avanti anche al comune di Edolo, ne sta ristrutturando alcune che verranno messe in bando come gestione per rifugi. Sì, è proprio questa trasformazione e io come presidente di Asso Rifugi sono contento perché daranno la possibilità ad alcune famiglie di vivere anche loro in montagna e dare la possibilità alle escursionisti di conoscere posti nuovi perché la presenza di un rifugio fa sì che quella zona sia frequentata. Ormai nella mentalità comune il rifugio è visto come un senso di protezione, cioè dove c'è un rifugio uno si sente protetto perché sa che può contare anche su altre persone, non è come fare un'escursione dove non c'è nessun rifugio. Se c'è un presidio proprio. Esatto, e lo stiamo portando avanti anche con quello come punti di informazione, come presidio sul territorio, bisogno anche solo di comunicare a casa perché ricordiamoci che in quel 15% di mancanza di copertura in Italia sono quasi tutte le montagne, perciò in molte zone ancora il telefonino non prende e perciò avere un rifugio in cui puoi entrare e dire posso fare una telefonata a casa, comunicare e dire guarda che non prende il cellulare, non preoccuparti, è la cosa essenziale. Inizia adesso la stagione dei rifugi e torna anche tra l'altro organizzata da voi il Giro a Rifugi che è un'iniziativa ormai consolidata. Sì, diciamo che siamo alla 14esima, sono 16 anni ma sono 14 gestita da noi ed è sempre attratto un casino di gente e anche quest'anno la proporremo anche perché soprattutto in questa stagione sono cambiati molti gestori e poi sono entrate anche strutture nuove che si sono associate, perciò diamo la possibilità di conoscere anche queste al grande pubblico. Quindi ci sono anche la possibilità di fare giri diversi? Sì, moltissimi, in più in alcune province stiamo portando avanti anche il cantarifugi che sono serate nei rifugi, la presenza di, come si dice, anche di serate sulla grande guerra. Quindi lo sforzo per attrarre escursionisti c'è sempre? Sì, diciamo che lo scopo di Asso Rifugi è quello di far parlare della montagna non solo con un altro scopo, quello turistico e dare la possibilità all'escursionista di vivere quella giornata particolare anche con prodotti di malga, con altre cose che ci stiamo attrezzando e diciamo che anche ultimamente sono cambiate alcune regole anche nel poter anche noi dare questi prodotti al pubblico direttamente e così facciamo conoscere anche i nostri allevatori che sono vicini a noi. Torniamo sul Frerone in chiusura, un itinerario, un'indicazione, un consiglio per quest'estate anche di escursioni che partono dal rifugio. Il Monte Frerone sono 2685 metri e come ho detto prima c'è un bellissimo itinerario c'è un pezzettino da fare attenzione che è un canale, se no è tutta una mulatiera militare della prima guerra mondiale che porta proprio sulla venta dove c'era un punto di osservazione verso l'Adamello e consente questa cosa. Dal passo di Croce Domini o dal rifugio Bazzena si parte e le indicazioni in loco del sentiero sono molto belle e precise. Grazie a Gino Baccanelli e grazie a voi a casa al prossimo appuntamento. Grazie e spero di ritrovarvi tutti al rifugio al Lago della Vacca. Grazie. Grazie.